Domenica 21 maggio, buongiorno e ben ritrovati con l'edicola di TRMH24, il nostro spazio dedicato alla lettura dei quotidiani. Partiamo subito con le notizie di taglio nazionale e come di consueto partiamo dalla prima pagina della Repubblica, poi del Corriere della Sera. Servono 5 miliardi, questo il titolo di apertura di Repubblica, il tema affrontato è quello dei costi legato all'alluvione che ha sconvolto l'Emilia Romagna. Frutteti distrutti, allevamenti senza animali, fabbriche da ricostruire, strade spazzate via, inchiesta su una regione al collasso. Oggi arriva Meloni, martedì il Consiglio dei Ministri per un decreto tampone sull'emergenza, ma si parla di 20 milioni. I tecnici riescono nell'impresa, invertito il corso del canale romagnolo. Questa è la sintesi dei principali temi legati all'alluvione, a cui è dedicato anche l'editoriale firmato da Maurizio Molinari su Repubblica, il clima è una questione di sicurezza nazionale, questo il titolo dell'editoriale. Poi ancora la civiltà contadina che plasmò le valli, l'articolo firmato da Marco Belpoliti. Ancora l'analisi, ecco perché il PNRR è un fallimento annunciato, l'articolo firmato da Tito Boeri e Roberto Perotti. Siamo ancora sui temi legati all'alluvione per il commento di Concita De Gregorio, la fragilità delle vittime, questo il titolo. Torniamo nella parte alta della prima pagina di Repubblica per le notizie che arrivano dal fronte esteri. Invece Prigozin esulta, presa Bakhmut, il Papa a Zuppi la missione di pace. Il G7 ammonisce Pechino su Taiwan, Xi dichiaraci diffamate. Poi ancora l'assedio dei grandi alla Cina. Ci spostiamo ora dalla prima pagina della Repubblica sul Corriere della Sera. Anche in questo caso l'apertura è dedicata all'alluvione. Allarme sfollati, questa l'apertura. Emilia Romagna in 36 mila costretti ad abbandonare le case. Rischio frane e danni per miliardi. Corsa per salvare Ravenna, Meloni lascia il Giappone. Misure le risorse, ci sono questa la dichiarazione. In taglio alto invece, Rocella contestata a causa al Salone del Libro. La ministra va via Schlein negato il dissenso. La solidarietà del governo sono le reazioni che arrivano dopo il caso. E poi ancora lo sfogo. Che tristezza impedire ad altre donne di parlare. Stato ed emergenza. La forza dei poteri di veto. L'articolo firmato da Maurizio Ferrera. E poi ancora andiamo in taglio centrale. La fotonotizia. Salgado, la terra si è stancata di noi. Il grande fotografo, gli scatti e il destino dell'umanità. Andiamo rapidamente anche a leggere l'attacco. L'infanzia è armato a cavallo. L'attentato arrega nei 58 viaggi in Amazzonia. La terra è stanca di noi. L'uomo sta per scomparire. Dice il fotografo Salgado. Dagli esteri, i caccia a Kiev. Roma pronta a discuterne con gli alleati. Al G7, disgelo con Macron. Calenda e le tensioni. Renzi, non capisco più cosa ha in testa questa l'intervista al leader di azione. Poi l'intervista al ministro Musumeci. Fiumi dissesto. Chi ha colpe deve pagare. Lo stile non si afferma per decreto. Invece l'articolo firmato da Aldo Grasso lo troviamo nella parte bassa della prima pagina del Corriere della Sera. Ci spostiamo ora sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Siamo ora sull'edizione nazionale. Migliaia di sfollati. Nuove frane e allagamenti in Emilia Romagna. Oggi allerta al sud. Cade un elicottero a lugo. Quattro feriti. Una locana tra i volontari. L'analisi, l'antidoto è capire cosa fare. È firmata da Alessandro Vanoli. La fotonotizia in taglio laterale. Nel 2024 la Puglia sarà sede del G7. Meloni una terra simbolo di dialogo. È riportata sulla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno. Il titolo del reportage condotto Gerusalemme incandescente per la danza delle bandiere. La festa nazionale diventa nazionalista. Forum Ambrosetti. Il sud motore dell'area mediterranea. Si parla anche di transizione ecologica. Esperti a confronto a Taranto. RSA irregolari. Zulo di Fratelli d'Italia chiede meno burocrazia. Spazio anche allo sport. In taglio basso c'è Lecce Spezia. Salvezza in palio. Continuiamo ad analizzare la Gazzetta del Mezzogiorno. Ci spostiamo però sulle edizioni locali per una panoramica delle notizie che arrivano appunto dai territori. Iniziamo dalla Gazzetta di Bari. Il commercio barese salvato dal turismo, inflazione e meteo e negozianti non scacciano la crisi. C'è anche spazio per altre tematiche. Movida senza regole, vittime i residenti e la qualità della vita. CNR, il pane su misura grazie alle biotecnologie. Mia madre è grave ma al Policlinico non ci sono posti letto. La 62enne ricoverata a Putignano. Ci spostiamo ora sulla Gazzetta di Capitanata. Commesse all'OGR, vertenza in Parlamento. A rischio 68 mila ore di lavoro, pari a 45 unità in fabbrica. Anche la cronaca, guato al quartiere CEP, ucciso Salvatore Principe, il boss dell'omonimo Clam. Continuiamo con la Gazzetta del Mezzogiorno. Ci spostiamo però ora sull'edizione della BAT. Eredità milionaria, indagati, medici e notai a Barletta. La procura di Trani indaga per circonvenzione. Il processo Barletta, omicidio alla sala, parla uno degli imputati. Poi ancora a nuovo ospedale, il comitato chiede chiarezza. Il 26 maggio intanto ad Andrea è annunciata una manifestazione. Siamo quindi sulla Gazzetta del Salento. Gita imbarca Castro con molestie sessuali, condannato Skipper dopo la denuncia arrivata da una minorenne. A Brindisi invece è scoperta evasione fiscale da un milione di euro. Società immobiliare nel mirino della Guardia di Finanza. Impiegata dell'aeroporto, intasca i soldi del check-in. Denunciate lei e una viaggiatrice. Ci spostiamo ora sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Siamo all'edizione Tarantina. Due agenti aggrediti da un detenuto all'ospedale Moscati hanno riportato ferite guaribili in sette giorni. Sindacati, ennesimo episodio. Questa la denuncia. Morì mentre usava il flex. Tre indagati sotto accusa per omicidio colposo ai vertici dell'azienda. L'incidente è avvenuto il 5 agosto del 2022. Il pubblico ministero Francesco Ciardo ha chiuso l'inchiesta sulla morte di Guido Gaetano. Prudenzano, notificando gli avvisi di garanzia. Ci spostiamo ora sul fronte lucano. Siamo sulla Gazzetta di Basilicata. Le notizie che arrivano dalla provincia di Potenza e di Matera. Acqua e reflue del petrolio. Il depuratore fa paura. I dubbi dei sindaci dell'area. La regione nessun impatto. Siamo in Val d'Agri. Il progetto dell'ENI per l'impianto Blue Water al servizio del centrolio di Vigiano. Protesta e lavoro. La chiamata ai sit-in. Non ci sono più gli scioperi di una volta. L'articolo firmato da Gianfranco Massaro. La testimonianza invece. Insegnante potentina a Faenza. Non fuggo. Resto per dare un aiuto. Disastro di Emilia Romagna. Il racconto di Angela Bocchicchio. E' riportato anche dalla fotonotizia. Il fango a Faenza. E' appunto la foto della protagonista della storia. Potenza invece parcheggio interrato in piazza Don Bosco. Da Matera. I sassi da Cartier-Bresson al degrado e alle proteste. I luoghi immortalati dal fotografo. E ci spostiamo ora dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Siamo sulla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno. La Puglia accoglie i grandi della terra. Il titolo d'apertura dedicato all'annuncio rilasciato nelle scorse ore dal Premier. Il rannuncio di Meloni appunto a Hiroshima. Fra un anno il G7 nel luogo del dialogo già scelto dal Papa. Politica ancora da stabilire la sede del Summit con Premier e Capi dello Stato. Emiliano però dichiara o subito ringraziato Giorgia Meloni. La sfida da sud al regionalismo. Si parla di autonomia e lezioni della storia nell'articolo firmato da Claudio Scamardella. E poi ancora quando il governatore riunì i nemici del Vertice. Il precedente, già nel 2017, il meeting. Cosiddetto alternativo. Operai e soci. Arriva il Fondo Salva Aziende. Parliamo di imprese ai dipendenti. Affitti salati. Ecco i vauce per i fuorisede. Aiuti agli studenti dopo le proteste dei giorni scorsi. In taglio centrale della fotonotizia. Porto Bari nel cuore. Il trionfatore di amici incoronato al comune. Festa e riconoscimenti per il ballerino Matteo Zenzola. Nelle scorse ore. La cerimonia appunto al comune di Bari. Come raccontato dalla foto. Elezione a Foggia. Tra gli imbarazzi non c'è mafia. In taglio centrale. Io al Petruzzelli come un debuttante. Nicola Piovanni. Un'opera per ragazzi da Oscar. Per comporrà il labirinto di Creta. Andiamo rapidamente a dare un'occhiata anche alle pagine interne. Siamo ancora sull'occorriere dal mezzogiorno. Le aziende in crisi salvate con le Coop. Fondi e lavoratori per diventare soci. È pronta la misura che affida le imprese ai dipendenti. Rollo di Lega Coop. Subito mille posti recuperati. Il Ponte Traoriente e Occidente. Il G7 del 2024 si farà in Puglia. Vengono riprese le dichiarazioni che abbiamo trovato in prima pagina. L'annuncio da Hiroshima della Premier Meloni. Una terra simbolo di dialogo. La telefonata emiliano dalla Valle d'Itria a Castel del Monte. Le ipotesi sulla sede. Intanto le proteste del governatore al meeting di Bari del 2017. Il controvertice organizzato dalla regione. Questo insomma il precedente. E poi ancora continuando a sfogliare le pagine interne del Corriere del Mezzogiorno. C'è anche spazio per la cultura. La piramide di Alberto al Salone del Libro. Un'opera per ragazzi da premio Oscar. Piovani perché il mio sì al Petruzzelli. Ci spostiamo ora sulla Repubblica. Siamo sull'edizione di Bari. I temi in apertura sono temi legati alla politica. In taglio alto alla Premiera del Giappone. Il G7 in Puglia. Fra un anno a giugno l'appuntamento con i grandi della terra. Anche in questo caso le ipotesi sulla località. L'intervista a Monsignor Santoro. Noi a Mosca con San Nicola per la pace. La forgia. Le forze anti Meloni. Nella coalizione per Bari 2024. L'intervista al presidente della giusta causa. Sulle scelte del centro-sinistra per il dopo de caro. Non servono altri aspiranti sindaci ma una discussione pubblica sul futuro della nostra città. La cronaca inceneritore. Il Tarra discuterà novembre. I tre ricorsi su New O. E poi ancora processo. Sette disabili del sit-in alla regione. In campo per la vita. Anche in questo caso andiamo a dare uno sguardo alle pagine interne. Nella Repubblica. La Premier del Giappone. G7 in Puglia fra un anno. Ricorda Papa Francesco e il dialogo con l'Oriente. Vengono riprese il titolo riportato in prima pagina con l'intervista al presidente della giusta causa. E poi ancora inceneritore. Il Tarra discuterà a novembre i ricorsi su New O. Andiamo a dare uno sguardo anche al titolo di apertura dell'edicola del Sud. In Puglia il prossimo G7. Arrivano i grandi della terra. Rapidamente la cronaca riportata in taglio basso. In Piazza Aldomoro. Ormai è un inferno. SOS dei negozianti. La svolta a Barletta. Il Comune libera il lungomare dai lavori per la Fogna. Il Procuratore di Foggia l'invito di Vaccaro. Scendete in campo contro la mafia. E poi dalla Basilicata l'allarme di Cifarelli. Asma, la DG, vuole cacciare tutti. Ci avviamo alla conclusione dando uno sguardo alle notizie di taglio economico. Siamo sul sole 24 ore. Andiamo a leggere i titoli di apertura. TLC, energia, cybersicurezza. Arriva il piano asset strategici. E poi ancora i giovani angeli del fango in aiuto dell'Emilia Romagna. Noi ci fermiamo qui. Vi ringraziamo per l'attenzione. A tutti una buona giornata. Una buona domenica.